Le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia sono da anni protagoniste del panorama dello spettacolo italiano, conquistando il pubblico con il loro fascino e la loro determinazione. Nonostante l'immagine di una famiglia unita, negli ultimi giorni alcuni dettagli hanno alimentato il gossip, facendo ipotizzare una presunta crisi tra le due. Ma qual è la verità? Ecco cosa sappiamo. L'assenza di Cecilia alla sfilata del brand di famiglia. Negli scorsi giorni si è tenuta alla sfilata di Hinnominate, il brand di abbigliamento creato da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. L'evento ha riscosso grande successo, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare un'assenza importante, quella di Cecilia, perché la moglie di Ignazio Moser non era presente a un appuntamento così significativo per il brand. Le ipotesi di una tensione familiare non hanno tardato a diffondersi sui social. La realtà però sembra essere molto più semplice. Cecilia infatti è attualmente in viaggio di nozze con il marito Ignazio dopo essersi sposata qualche mese fa. La coppia ha scelto proprio questo periodo per concedersi una romantica luna di miele, come dimostrano i numerosi scatti e video condivisi sui loro profili social. Belen protagonista dell'evento, i dettagli che fanno discutere. Mentre Cecilia si gode il relax, Belen ha presenziato all'evento, pubblicando sui social momenti del backstage e della sfilata. Tuttavia, un dettaglio delle sue storie Instagram non è passato inosservato ai fan, il look audace della showgirl. Indossando un paio di pantaloni neri e una maglia aderente e trasparente, Belen ha attirato l'attenzione di tutti, ricevendo una pioggia di complimenti per la sua sensualità senza tempo. Ma, accanto agli elogi, alcuni follower hanno colto l'occasione per chiedersi se l'assenza di Cecilia nascondesse qualcosa di più di una semplice luna di miele. La forza del brand Innominate. Nonostante i pettegolezzi, il progetto di Innominate continua a rappresentare un simbolo della coesione familiare tra i fratelli Rodriguez. Il marchio si distingue per uno stile loungewear che celebra la libertà di espressione e la voglia di uscire dagli schemi. Le radici argentine di Belen, Cecilia e Jeremias sono una costante nei loro capi, un richiamo alla loro identità e alla loro storia personale. Il brand è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, diventando un punto di riferimento per chi cerca uno stile confortevole ma ricercato. La loro collaborazione, almeno in apparenza, è una testimonianza del forte legame che unisce la famiglia, nonostante le inevitabili dinamiche personali. Al momento non ci sono prove concrete che tra Belen e Cecilia ci sia una vera e propria crisi. La scelta di Cecilia di non partecipare alla sfilata sembra motivata da un'occasione felice e non da tensioni familiari. Il tempo ci dirà se le speculazioni del web hanno un fondo di verità o se si tratta semplicemente di coincidenze malinterpretate. Nel frattempo i fan delle Rodriguez ferite i luci di non partecipare alla sfilata sembra non partecipare alla sfilata e quindi sono importante la sfilata passare a poi facendo una sfilata appare alla sfilata. Nel frattempo i fan